Poi fra l'altro, ho detto proprio tra noi, io ne manco per accorto che era stata fatta questa cosa durante il percorso dei venti eventi, durante il periodo. Però è capitato che poi parlando con il responsabile del comune, con il tecnico del comune che stava provvedendo a smantellare le installazioni, è capitato che qui lui mi ha fatto notare questa cosa e diceva, appunto, io questa cosa qui sinceramente non la smonterei. E quindi magari uno non capisce che c'è un evento perché non si aspetta il gran silenzio. Certo, questo è interessantissimo. Qui è un paese abituato agli eventi, non sembrerebbe, proprio per quello che dice lui, il fatto del Teatro Podrac, ha sempre fatto rassegne, cose sempre molto, molto rumorose. Sono spettacoli, quindi sono rumorosi. E allora un evento silenzioso, magari ha vissuto come un non-evento.